Azzuffato dopo dieci mesi di ricerche, i poliziotti del commissariato di Port Empedocle hanno arrestato Armando Locascio, 66 anni di Port Empedocle. Dopo la condanna per stalking nel febbraio 2011 e una successiva misura restrittiva del luglio dello stesso anno, Locascio risultava latitante. Ricercato persino fino all'isola di Malta, l'uomo è stato alla fine rintracciato in un piccolo antro ricavato all'interno della sua abitazione di Port Empedocle. Condannato per stalking a causa delle continue molestie contro una sua vicina di casa quarantenne, Locascio, indipendente del parco archeologico di Agrigento, ha proseguito con nuove persecuzioni ai danni della vittima. Risultando irreperibile dopo una nuova ordinanza di custodia cautelare nel luglio 2011, sempre per fatti analoghi, il giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Agrigento, Alessia Geraci, nell'ottobre scorso, aveva modificato lo status di Armando Locascio da irreperibile a latitante. Alessia Geraci Grazie Grazie a tutti.